Ci sono questi cento che camminano a stormo, adesso voglio dire, fra cretini si ritrovano e camminano tutti a stormo così, ogni tanto come gli stormi proprio, che si allargano, si stringono camminando e danno anche fastidio da vedere, voglio dire. Poi c'è qualcuno che è al centro dello stormo, non riesce a respirare, ha bisogno di aria, allora si fa strada fino a che arriva nella zona limitrova dello stormo e spinge quello che è già lì e questo qui si perde dal gruppo e viene preso, quindi prenderne uno per non prenderne 99. Veniamo su, dai, Giove, dai, tu che sei, dai, sempre buoni testi. Aldo mi ha dato il centro. Per cazzo è andato? E' Aldo. Aldo? No, ma dai, su. Me l'ha caduto. Eh, minchia, dai, lavorate. Ma perché è nascosto? Sì, non l'avevi vista. No, non l'avevo vista. Prima media, prima. Se nasci torto, muori torto. No, no, non lo indica. C'è il centro. Iii, Aldo. Cos'è? Dovevo fare anche noi. Si sta invitando a un gesto di apertura. Facciamolo. Ma questo è un gesto di apertura? Sì, ma. Apertura di che cosa? Apertura. Giacomo. Giacomo. Io mi sono, mi sento aperto per metà, ma l'altra parte è chiusa. Mi puoi dire se può aprire l'altro braccio, per favore. Sì, ma qui c'è la finestra. Beh. Lui dice. Ho il segno di disponibilità. Io posso portare un fiore? No. Sì. Apertura. Si sta tirando verso di sé. È la conoscenza che ci chiama. Così vado bene. All'unisono. All'unisono. Un mare mi sento una peffaia. Non mi sento nello cielo. Qua mi piace, ci piace. Perché ha sentito dentro di noi qualche impurità. Forse sono io stamattina. Io ho mangiato la Catalogna. Se nasci dritto, non è detto che mori dritto. No, no, ma non fatti i cretini. Dai, aspetta, venite qua che mi spiego questo concetto. Venite di qua. Ma non di qua! 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 Ma questo è lo spazio. Ciacco, inviolabile dell'arte! Ciacco, scusami. Ma questo qua l'ha visto da vicino o da montaggio? Oh no! To find me! Da, come! Oh no! Alla, da, da! Alla, yeah, yeah!